Sapete chi è Harley Quinn? Un arlecchino. Il ruolo dell'arlecchino è il servitore. Non è nessuno senza un padrone. E a nessuno frega una merda secca. Di chi siamo, oltre a questo. Joker e io ci siamo lasciati. Volevo ricominciare da capo. Ma non ero l'unica gentildonna a Gotham in cerca di emancipazione. Notizia spettacolare. Miss Quinn appartiene a me. E voi chi siete? Dammi retta, Quinn. Hai bisogno di me! Ora dà la caccia a tutte noi. Nessuna uscirà viva da qui. Se non lavoriamo insieme. Con te. Ma stiamo scherzando? Divertente. È come un pigiama party. Ordiniamo la pizza. E dei cosmos. Harley, concentrati. Di me dovrebbero avere paura. Boo! Non di te. Non di Mr. J. Perché io sono Harley fottutissima Quinn. Chi è che se la sta spassando? State pronti, ragazze. Ah, una tipa psicopatica. Non chiamare una donna tipa. Accetto coca, lady, bella. E a volte biciccio. Ma che dici? Lancia questo, per favore. Ah! 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 Grazie a tutti.